Ci colleghiamo con Long Broad TV È arrivato luglio! Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai diciotto ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni Ah, che tristezza! Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Long Broad TV Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione clara a Rimini Long Broad TV Specialisti nell'allungare il brodo Basta! Ecco alcune novità di questa settimana Fantascienza Dopo Star Trek Star Trek Next Generation Deep Space Nine Voyager Enterprise Discovery Epicare Noi della Long Broad TV abbiamo creato Star Trek tutti Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi presi qua e là dalle varie serie di Star Trek e guardarli tutti assieme e contemporaneamente Ma no! Capitano, guardi qui sto rilevando tracce di idrocarbù Sapevo tutto quello che so ora Non si capisce E non perdere la nuovissima funzione VR Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema Basta un comunissimo visore anche per telefono che potrà immergerti in un ambiente estremamente realistico come ad esempio il classico multiplex di periferia Ma vediamo un esempio come The Boys VR Mode Ci serve una denominazione Top Secret Yankee White per il composto Andiamo, Stan Solo un nuovo polaro Può fare un tiro nello studio ovale e cominciare a dare una Adesso non veniva al cinema Passami una caramella La metà dei nostri eroi non sa avere un composto fun E dai, cellulare per piacere! Questo qui Il possibile per limitare la caramella Corre un linguaggio più incisivo E' il linguaggio che non ho fatto un certo punto di vista Stai in vista Ciccaccio Ma basta L'ora laggiù Ma la bambina si è spaventata per la scena La porta fuori Cinema e documentari Back to the Future Untold Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro Raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox alias Marty McFly 37 anni dopo l'immenso successo Sensazioni aneddoti e molto altro Una storia decisamente movimentata Eh no Ciao Michael come stai innanzitutto? Molto molto bene grazie E prego avvicinate un po' il microfono Ok Ma partiamo dall'inizio ecco quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro che emozione è stata per te? Pensavi che potessi diventare quello che è stato? Eh no Praticamente Dai no Pensavo di no No stop 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 Per piacere Michael poi non toccare il microfono grazie Ok Da capo azione E raccontaci un po' Michael l'incontro con Christopher Lloyd Com'è stato? Allora con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme però poi dopo lavorando insieme il terzo film si è diventati veramente cari amici e quindi stiamo No 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 Michael per favore puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono Poverino dai Povero Così? Pausa 5 minuti per tutti Questa è la porta per il bagno? Sì 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 Dai Christopher Lloyd Long Broad TV Colpa di Giovanni Abbonati subito È facile E se ti abboni entro il 12 luglio avrai dei contenuti in esclusiva